dormire dolce dormire a questa attività misteriosa dedichiamo circa un terzo della nostra vita ecco allora senza dispositivo progettato da hello start up di san francisco specializzata in software progetto questo che ha già ricevuto più di sei volte il budget di 100 mila dollari che si prefissato ma cosa fa senza monitora le caratteristiche della camera temperatura umidità e luminosità individua con un sensore integrato la presenza di pollini nell'aria che possono causare allergie ci sveglia allora più adatta per rispettare il nostro personale ciclo di riposo alla fine darà pure un voto alla nostra performance da zero a cento grazie a tutti